Musica Ben ritrovati al nostro programma di approfondimento quotidiano, punto 13 talk. Oggi ci occupiamo di economia e di politica, parleremo soprattutto di quello che è stato firmato ieri sera, l'accordo, il cosiddetto accordo sulla produttività, un accordo firmato dalle associazioni imprenditoriali e dai sindacati, ma non da tutti i sindacati, in particolare non è stato firmato dal più grosso e più rappresentativo sindacato italiano, cioè dalla CGL. E allora, per approfondire questi temi che toccano tutti i lavoratori, abbiamo con noi in studio Pino Gesmundo, che ringrazio per essere qui, che è il segretario della CGL Bari. E allora, con lei vogliamo capire un po' cosa è stato fatto ieri sera e poi soprattutto perché il sindacato che lei rappresenta non ha voluto firmare. Buongiorno ragazzi. Buongiorno e grazie per l'approfondimento. Intanto, perché la CGL non firma questo accordo e se è solo la CGL che non firma questo accordo? Naturalmente la CGL non ha sottoscritto in dato di fatto, ma io vorrei chiedere e sapere quanti lavoratori conoscono questo accordo e chi ha posto quella firma se si è preoccupato di sentire il lavoratore rispetto alle cose che si sono andate a firmare in questo accordo. Io penso che un accordo importante come questo, prima di sottoscriverlo, in qualche modo avrebbe dovuto avere almeno l'avvallo dei lavoratori. Doveva essere conosciuto dai lavoratori. Intanto questo è un punto fondamentale che attiene alla democrazia e al rispetto dei lavoratori. Però, non volevo interrompere, volevo solo dire, questo governo come abbiamo visto ha molta fretta e per certi aspetti è anche giusto perché poi alla fine sono vent'anni che l'Italia non riparte, no? E allora un modo per far ripartire la macchina ci deve pur essere. E allora, voglio dire, non c'è stato il dialogo continuo con i lavoratori, però i rappresentanti sindacali, compresi i vostri, c'erano a quel tavolo, no? No, intanto noi abbiamo ovviamente anche delle questioni di merito che abbiamo posto a rispettare la sottoscrizione di quell'accordo, ma vorrei ribadire ancora una volta che il rispetto dei lavoratori, come dire, l'avvallo dei lavoratori rispetto a questi accordi è fondamentale. Questo è un punto e è un punto importante. Dopodiché il merito dell'accordo, poi questo governo ha tanta fretta, ha fatto delle riforme tutte in fretta. Possiamo parlare della riforma del mercato del lavoro, una riforma fatta in fretta, dovevamo presentare all'Europa, ci dovevamo presentare con questa nuova riforma che doveva sbloccare gli investimenti, che avrebbe attratto investimenti sul nostro territorio, avrebbe aumentato l'occupazione, di fatto quella riforma del mercato del lavoro non ha prodotto proprio nulla, anzi sta facendo danni, continua a fare danni. Vogliamo ragionare rispetto alla riforma delle pensioni, avevamo fretta di dare anche lì un messaggio importante alla comunità europea, ai mercati, agli imprenditori, gli investimenti eccetera, e invece anche lì abbiamo creato un problema enorme, penso a quello degli esodati, ma abbiamo massacrato ancora una volta e colpito ancora una volta le classi basse della popolazione, i pensionati al minimo che riescono a arrivare alla fine del mese. Ora vogliamo fare un'altra riforma che è quella della produttività. Io penso che con la fretta non si va da nessuna parte e che andrebbero fatte riforme partendo da un altro punto di vista, perché tutte queste riforme partono tutte dallo stesso punto di vista, abbassare il costo del lavoro, far pagare ancora una volta i costi, abbassare ancora una volta i costi attraverso lo smantellamento dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani, piuttosto che partire da un'altra parte, partire dallo sviluppo, dagli investimenti sullo sviluppo, da come si, per esempio, si attraggono le imprese ad investire attraverso una condizione, creando condizioni territoriali di maggiore attrattività per le imprese, penso a tutta la vicenda del costo dell'energia, magari abbattendo un po' più i costi dell'energia in questo paese, magari le aziende investirebbero meglio, non si può continuare ancora una volta sempre a far pagare sempre le solite persone, c'è tante politiche che si possono fare in questo momento. Ora questo accordo della produttività ha un risultato immediato, non esisteranno più contratti nazionali, che è la salvaguardia dei diritti dei lavoratori su tutto il territorio nazionale. Ne parleremo più avanti, anche specificamente sulle voci più importanti. Intanto io direi alla regia di mandare in onda questa scheda che fa un po' il punto sul senso di questo accordo firmato ieri sera. Prego. 2 miliardi e 150 milioni di euro per il periodo 2013-2014, a tanto ammonta il tesoretto che il governo, nella legge di stabilità, stanzierà per la detassazione del salario di produttività. Ma il punto più importante è l'accordo firmato ieri sera a Palazzo Chigi per i nuovi contratti di lavoro, un accordo firmato dalle associazioni per le imprese e dai tre sindacati. Manca la firma della più grande rappresentativa organizzazione sindacale, la CGL. Susanna Camusso ha detto che l'intesa alla fine riguarda una platea di soli 2 milioni di lavoratori lasciandone fuori 16, per i quali ci sarà invece un abbassamento dei salari reali. Sarebbe stato meglio detassare le tredicesime, ha sottolineato la leader della CGL, ma questo non è possibile, le ha risposto a caldo il leader Monti, per le condizioni della finanza pubblica. Tutti positivi invece i giudizi di Raffaele Bonanni, leader della CISL, Luigi Angeletti della CGL, Giovanni Centrella di UGL. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha detto andiamo nella giusta direzione, ci dispiace che non tutti sottoscrivano. Il ministro dello sviluppo Corrado Passera, giudicando l'accordo molto concreto, ha precisato che non si tratta di una defiscalizzazione a pioggia, ma verranno premiati gli accordi in grado di generare davvero maggiore produttività. Ma questo accordo servirà veramente a generare produttività, a mettere in moto una macchina ferma da almeno dieci anni? Eh sì, perché secondo uno studio dell'Ox, l'Italia si ritrova all'ultimo posto fra i paesi industrializzati per crescita della produttività fra il 2000 e 2010. Qualche speranza giunge comunque nel 2011 da un timido 0,7% di produttività totale e a sostenere questo risultato contribuisce lo sprint dei servizi ricreativi, culturali e dell'agricoltura a tirare in basso invece l'economia, il settore delle costruzioni, istruzioni, sanità e servizi sociali. Noi ce lo siamo posto in maniera interrogativa, servirà davvero a rimettere in moto la macchina? Probabilmente la vostra risposta, lo so già, è negativa, ma allora cosa accorre fare se non questo che riguarda, come ha detto Camusso, comunque solo due milioni di lavoratori, perché stiamo parlando di detassazione, lo analizzeremo meglio nel corso della giornata, anche in maniera più tecnica della puntata, riguarda la detassazione del salario accessorio, cioè la busta paga è fatta dal paga base e poi ci dovrebbero almeno, perché ci dovrebbero essere questi salari accessoriche che però spesso non ci sono nemmeno e su quelli si va a operare in maniera positiva, cioè detassandoli un po'. Più in generale, cosa serve fare? Intanto serve mantenere un livello di attribuzione adeguato per i lavoratori su tutto il territorio nazionale, rispetto alle tutele e quindi ai diritti e rispetto anche al salario. Questa operazione può essere fatta soltanto attraverso il contratto nazionale, attraverso il contratto nazionale si garantiscono uguali tutele, uguali diritti per tutti i lavoratori, quelli minimi voglio dire, quelli garantiti dalle leggi, dalle norme, frutto di tante battaglie su tutto il territorio nazionale e questa è la prima cosa da fare. Dopodiché, che cosa c'è da fare? C'è da mettere in moto una macchina per fare lo sviluppo in questo Paese. Si continua a dire che in questo Paese non c'è sviluppo perché il costo del lavoro è elevato, perché è difficile licenziare, è una serie di questioni che continuano ancora a essere utilizzate a slogan che invece sono delle merite bugie. La riforma del mercato del lavoro continua a mantenere 46 rapporti di lavoro diversi per poter agevolare le imprese rispetto alle assunzioni. Questa flessibilità del lavoro mette in condizione i lavoratori di non avere più diritti e comunque nonostante questo si continua a dire che il problema sono le modalità d'accesso nel mondo del lavoro, troppo rigide. Si continua a dire che non si può licenziare quando in effetti poi l'articolo 18 è stato modificato. Si raccontano una serie di bugie e si raccontano una serie di cose inutili rispetto al fatto che invece c'è bisogno che le imprese inizino ad investire in innovazione e ricerca e che si inclinano le condizioni perché i governi nazionali aiutino le imprese ad investire in innovazione e ricerca. E c'è bisogno di fare un'altra cosa, c'è bisogno di far pagare di più chi guadagna di più e dare un po' di più a chi guadagna di meno. Dopodiché è evidente che se un'impresa fa più utile investendo in borsa attraverso la finanza piuttosto che reinvestire i propri utili per incentivare attraverso ricerche e sviluppo, tecnologie nuove eccetera, le proprie aziende, è evidente che se si rende sempre più attrattivo l'investimento in finanza piuttosto che quello sull'impresa e sul lavoro è evidente che non si va da nessuna parte. Lei a proposito di innovazione e ricerca pensa che con l'avvicinarsi delle elezioni politiche in qualche maniera il prossimo governo saprà puntare meglio su questi settori pur non perdendo di vista quella che è l'attenzione comunque ai mercati? E' chiaro che i mercati sono una cosa importante, ci mancherebbe altro, bisogna sempre tener conto dei mercati perché rispetto ai mercati poi bisogna riferirsi rispetto alle produzioni. Io non lo so cosa succederà nelle prossime elezioni elettorali, io spero che si inverta la tendenza, stiamo ragionando di un sistema elettorale che non sappiamo neppure che cosa produrrà in termini di alleanze, che cosa produrrà in termini di consenso, la cosa certa è che con queste politiche non si va da nessuna parte, queste politiche hanno di fatto creato ulteriori problemi al paese e non è certo questi accordi fatti in questo modo, frettolosamente, senza sentire i lavoratori, tenendo fuori la più grande organizzazione dei lavoratori che si può produrre lavoro e sviluppo. Anche perché di marcia indietro ne abbiamo viste parecchie in questi mesi, compreso gli esodati. Compreso gli esodati, insomma che è un bobone incredibile creato da docenti universitari che avrebbero dovuto fare semplicemente quattro conti, noi continuiamo a dire delle cose, poi dopo di che si verificano e io vorrei molto sommessamente spiegare a questi soloni e ai nostri ministri, a chi sta governando questo paese, che è importante tenere conto dei punti di vista di tutti quanti e che non è attraverso questi accordi e con la fretta con la quale questi accordi si sottoscrivono che si possono risolvere i problemi del paese. Quante aziende fanno il contratto di secondo livello? In quante aziende si è scritto che si fa il contratto di secondo livello e poi non si fa? Quante? Non ce lo dica lei, almeno a Bari e provincia, quante? Sono poche, sono poche, abbiamo una situazione nella quale obiettivamente c'è soltanto una situazione di crisi su tutto il territorio della zona industriale, abbiamo grande fatica a tenere i livelli occupazionali e già tanti accordi facciamo sul, come dire, molto vicini alle deroghe del contratto nazionale, molto spesso sforando i contratti nazionali laddove è possibile fare degli accordi, molto spesso dove i lavoratori sono pochi, dove i lavoratori sono pochi, dove il sindacato non è forte, gli accordi, le deroghe le fanno esclusivamente unitariamente i datori di lavoro e quindi dare la possibilità di continuare a fare questo tipo di operazioni significa ancora una volta, come dire, infierire sulla parte più debole del paese, sulla parte più debole del mondo del lavoro. A volte, se non si pensasse a un disegno ben preciso, si potrebbe, proprio prima di dare la linea alla pubblicità, ci fanno segno, che non abbiano i nostri attuali, almeno governanti, un contatto diretto con quelle che sono poi le realtà lavorative, soprattutto al sud, dove appunto contratti di secondo livello, cioè integrativi, come a volte si dice, non esistono. Che ci sono, ci sono, ma sono pochi, mosche bianche, certo, ci sono, bisogna vedere anche i rapporti di forza, ma non si può decidere dei destini della vita della gente, quindi se arriva o no alla fine del mese per sempre i propri figli, rispetto a quanto sei forte in azienda, se c'è un sindacato in azienda che ti rappresenta adeguatamente, e quanta voglia c'ha il datore di lavoro di fare un accordo decentrato, perché mettere quei soldi sul contratto decentrato significa togliergli dal contratto nazionale, quindi vuol dire... Va bene, linea alla pubblicità, torneremo nella seconda parte ad approfondire anche tecnicamente le varie voci di questo accordo che è stato siglato ieri sera, linea alla pubblicità, fra poco. Seconda parte di Punto 13 Talk, stiamo parlando di economia, di politica e in particolare dei contratti, dei nuovi contratti. Ieri c'è stata la firma, dicevamo, a Palazzo Chigi, fra quasi tutti i sindacati, cioè scuso la CGL, e gli imprenditori, e cambiano un po' i contratti di lavoro, adesso però con Pino Gesmundo, segretario della CGL di Baria e provincia, analizzeremo un po' voce per voce, almeno quelle più importanti di questo accordo che lei non ha firmato. A CGL non conoscono, magari chiediamo ai lavoratori se vogliono firmarlo, che è già una cosa. Ecco, non è stato chiesto però, noi quantomeno abbiamo l'obbligo, per fare cronaca, di farli un po' conoscere almeno cosa hanno firmato e cosa non troveranno o troveranno in busta paga, insomma. Allora, cominciamo col parlare, il punto centrale è proprio la detassazione del salario di produttività. Per questo il governo, il ministro Passera l'ha detto, ha messo da parte un tesoretto di 2 miliardi e 150 milioni di euro, serviranno a questo, a cosa serviranno? In pratica non ci si riferisce, possiamo anche mandare adesso un po' la prima schermata giusto per ricordarci di cosa stiamo parlando, mi sposto un po' così, è più visibile. Ecco, la detassazione del salario di produttività, non è lo stipendio di base del lavoratore, ma si riferisce a quella zona variabile legata all'aumento effettivo della produttività e comunque si tratta sempre di redditi di lavoro non superiori ai 40 mila euro. Al posto delle tasse, cioè dell'IRPEF e delle altre addizionali, apparirà questa tassa che si fermerà al 10% e non si esclude poi, si leggevo, uno sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello. Allora, toccherà alla fine non molti lavoratori e così Gesmundo? Toccherà, riguarderà questa indennità tutti quei lavoratori laddove di aziende che si possono consentire di fare accordi per la produttività, quindi aziende attive che funzionano, che producono, considerando che siamo nella fase nella quale invece le aziende fanno fatica ad andare avanti, chiudiamo per cassa integrazione, non ci sono le commesse e facciamo fatica a tenere i livelli occupazionali per le commesse che le aziende in qualche modo gestiscono. Quindi riguarderà veramente pochi lavoratori. In Puglia ci sono aziende dove si fa contrattazione decentrata, ci mancherebbe altro, ci sono aziende importanti. Il punto che non riguarda per esempio tutto quel mondo, che ormai è un mondo molto vasto, di aziende, di piccole, medie aziende, dove non si fa la contrattazione, di fatto non si fa la contrattazione. Se noi guardiamo i dati dell'occupazione, pensiamo che nel settore dell'edilizia si sono persi 2.000 posti di lavoro. Ora, io mi immagino ogni cantiere, dove c'è problemi occupazionali, dove dietro la porta del cantiere ci stanno tanti disoccupati che aspettano di poter sostituire coloro i quali magari vengono licenziati, dove si attiverà il contratto, la discussione sulla contrattazione decentrata e quindi sulla contrattazione di secondo livello sui salari di produttività, laddove l'azienda vorrà mettere a disposizione delle risorse, perché se non le mette a disposizione quelle risorse, vorrei vedere con quale forza contrattuale, con quale peso contrattuale, nelle aziende queste cose si possono rivendicare. E quando parlo di aziende, parlo complessivamente delle aziende, parlo soprattutto delle aziende del mezzogiorno, dove con la disoccupazione ai dati eclatanti, 30% di giorni che lavoro, 40% di donne che non lavorano e bla bla bla, è evidente che la forza del lavoratore è minima rispetto alla forza del datore del lavoro. Siccome questi cordi bisogna guadagnarsi in contrattazione decentrata, sul tavolo della contrattazione locale, è evidente che c'è un danno che si arrecherà ai lavoratori. Se quei soldi fossero stati messi sul contratto nazionale, sarebbero stati soldi in busta paga per tutti. Erga homeless. Allora, passiamo alla... Stiamo parlando di buste paga che sono leggerissime in questa fase. Fra l'altro. Non stiamo parlando di buste paga, che non garantiscono neppure la possibilità di arrivare alla fine del mese. E' chiaro, la famosa seconda... Terza settimana, una volta ormai. Allora, adesso parliamo, un altro punto è quello della riduzione, il famoso cuneo fiscale. Si chiede una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda più equo e in grado di ridurre la quota del prelievo che oggi grava sul lavoro e sulle imprese in modo sproporzionato è tale da disincentivare investimenti e occupazioni. Il cuneo, lo ricordiamo, non a lei ma ai nostri telespettatori, è la differenza fra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente in busta paga dal lavoratore, essendo il restante importo versato al fisco e agli enti di previdenza, nonché pensionistici. Questa è l'idea della riduzione del cuneo fiscale? La cittura ci può stare. Su questo c'eravamo, era una delle nostre proposte, ci stavamo rispetto al ragionamento del cuneo fiscale, certo. Bisogna capire quelle risorse per la riduzione del cuneo fiscale se gravano ancora una volta rispetto ai lavoratori. Se lo devono pagare i lavoratori non va bene, il cuneo fiscale lo facciamo pagare un po' con i lavoratori, magari un po' con le imprese e magari lo Stato attraverso investimenti che può trovare in termini di risorse con patrimoniali, con l'otto all'evasione fiscale, eccetera, può investire risorse per fare il cuneo fiscale. Per ridurre questo cuneo fiscale. Se questo cuneo fiscale, se la riduzione del cuneo fiscale è gravata di nuovo sulle tasche dei lavoratori, non abbiamo fatto nulla ancora una volta. Se va a favorire soltanto le imprese che pagano meno contributi, non va. Se quei meno contributi li pagano perché sono sostratti dai rinnovi contrattuali dei lavoratori, non va bene. Non ci siamo. E ora arriviamo a un punto su cui la CGL ci tiene parecchio. Il contratto, le relazioni industriali, possiamo passare anche all'altra grafica. Il contratto collettivo nazionale dovrebbe dare una chiara delega al secondo livello, cioè quello territoriale o aziendale o territoriale. Secondo livello di contribuzione. Sulle materie che possono incidere sulla crescita della produttività e quindi organizzazione del lavoro, orari, quindi voglio dire non riguarda più la contrattazione nazionale ma quella aziendale o quella territoriale quantomeno. Stiamo parlando. Questo significa una minore tutela per i lavoratori? Stiamo parlando esattamente delle dergue contrattuali che noi abbiamo tanto ostacolato. Stiamo ragionando rispetto al fatto che al di là di quello che è previsto nel contratto nazionale in termini di orario di lavoro, in termini di organizzazione del lavoro, di confronto sindacale, in termini anche di mansioni, sul livello decentrato, quelle regole che valgono per tutti i lavoratori sul territorio nazionale, in quell'azienda, in quel luogo di lavoro, in quella piccola azienda possono essere derogate e quindi può avvenire che magari si baratta le ferie in luogo di un maggiore ritorno economico, si può barattare una modalità di ritorno di lavoro diversa in luogo di un po' più di produttività e addirittura una modifica delle mansioni in luogo di quattro soldi perché di poi di questo stiamo parlando. Stiamo assistendo a una sorta di deregulation? È una deregulation che sono peggio delle gabbie salariali se ci pensate, significa che non si garantisce più su tutto il territorio nazionale a parità di lavoro le stesse condizioni. Questo penso che un sindacato serio non lo possa consentire. Passiamo all'altro punto fondamentale di questo accordo, il demanzionamento, qui Camusso è stata molto dura e decisa, si vuole affidare la contrattazione collettiva e il tema dell'equivalenza delle mansioni e l'integrazione delle competenze, oltre alla ridefinizione del sistema di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili. In pratica, se per esempio la banca è in crisi, un quadro può essere messo allo sportello con riduzione dello stipendio e così voi vi opponete. Io penso che ci sia un minimo di rispetto della dignità dei lavoratori, delle loro professionalità. Poi noi facciamo tanti accordi in aziende in crisi, facciamo tanti accordi che vanno incontro alle esigenze dell'impresa, per mantenere i livelli occupazionali, lavoriamo con gli ammortizzatori sociali. Ma ora, lasciare la contrattazione decentrata, al secondo livello di contrattazione, che ripeto mette nelle condizioni, soprattutto nelle piccole e medie aziende, il lavoratore in una condizione di sudditanza rispetto all'autore di lavoro. Perché non tutte le aziende sono grandi aziende, strutturalmente, dove è strutturalmente previsto il sindacato, dove ci sono relazioni sindacali di un certo livello, dove ci sono pesi e contrappesi sindacali rispetto alla forza sindacale da mettere in campo. Ci sono anche piccole aziende, dove il datore di lavoro la fa da padrona, che non teme il confronto sindacale perché i lavoratori sono pochi, perché il sindacato non c'è, non ci può essere per mille ragioni, perché nelle piccole aziende è complicato esserci. E lì il datore di lavoro oggi può fare di fatto quello che già fa, soltanto quello che lo realizziamo. Perché nelle piccole aziende molte di quelle cose che stanno scritte lì già si fanno, però almeno in qualche modo erano sanzionabili, perché se io ti assumo per fare il capo redattore non ti posso far fare il commesso della struttura o il segretario, te lo faccio fare perché nelle aziende in molti casi avviene il demanzionamento, esiste il demanzionamento, noi continuiamo a tutelare da dove è possibile, da dove i lavoratori ci chiamano e ci segnalano queste questioni i lavoratori, ma oggi legittimiamo questa modalità. Finora il contratto, se non ricordo male, prevede che ti debba dimettere e poi essere riassunto con altre mansioni al limite, invece adesso questo passaggio non c'è più. Io ti assumo per una mansione, rispetto a quella qualifica, con una mansione sono previsti dei ritorni contrattuali, dei diritti, delle regole che tu devi rispettare, se non sono più nelle condizioni di reggere quella mansione ragioniamo. Vediamo velocemente proprio 30 secondi l'ultimo cartello della partecipazione dei lavoratori all'impresa in cui si chiede al governo un regime fiscale di vantaggio per la previdenza complementare e un confronto per favorire l'incentivazione dell'azionariato volontario dei dipendenti anche in forme collettive. Io credo che questo punto non sia molto contestato da voi, forse è anche il meno importante. È un meno importante anche perché io vorrei vedere questi lavoratori con questi stipendi che sono bassissimi come possono pensare di investire in imprese, insomma è un po' complicato in questa fase, poi va bene ragioniamoci ma non è questo punto. L'ultima domanda perché siamo davvero in chiusura, il tempo a disposizione sta per terminare. Per quanto riguarda le nostre aziende, la vostra rappresentanza, Pugliesi dicono, la rappresentanza CGL credo sia abbastanza forte, cosa succede dopo la chiusura, l'accordo firmato? Dopo questo accordo firmato si sono rimandati ad un altro accordo che si dovrà tenere per regolamentare le modalità di rappresentanza dei lavoratori. C'è un accordo sottoscritto da tutte le sigle sindacali che è quello del 28 giugno, un accordo dove sono previste delle regole sulla rappresentanza e la rappresentatività. Io temo e spero soprattutto che non si facciano altri impicci, perché ora si tratta anche di validare questi accordi e farli validare da chi rappresenta veramente i lavoratori. Va bene, grazie Pino Gesmundo per essere intervenuto in questo programma di approfondimento e tutto per Punto 13 Talk dedicato al lavoro in particolare nella puntata odierna. È tutto, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.